Buongiorno a tutti, siamo qui in Viacina con la nostra amica Francesca e con Maria Teresa che ci sta facendo il video. Oggi faremo il nostro Buche Tour, un tour tra le buche del territorio. Come sapete, da giorni, da mesi non si parla altro che di buche della capitale e d'Italia, anche a livello internazionale. Questo è un grave problema, vero Francesca? Assolutamente sì, perché le macchine si trovano a dover evitare, facendo un vero e proprio slalom, le buche sulle carreggiate. Oltretutto, una grave pericolosità è per chi viaggia sulle due ruote, perché un motorino che prende una buca rischia veramente il guidatore di fare un grave incidente. Quindi noi oggi vi documenteremo il problema delle buche sul nostro territorio e speriamo naturalmente di esservi utili. A presto! Grazie, buona giornata!